questa sera parlerò di un tema a cui tengo moltissimo cioè il ruolo della mafia russa in questa in questa vicenda non so per quale ragione sia completamente scomparso dal dibattito qualsiasi riferimento alla alla situazione criminale russa stiamo parlando di un paese che ha un'organizzazione potentissima solnezva solnezvskaia mi perdoneranno la pronuncia le persone russo che conoscono il lusso ma la solnezvskaia la solnezvskaia cioè la brigata del sole brattva è una struttura potentissima che che ho voluto analizzare nell'articolo che stamattina ho pubblicato sul corriere che potete trovare sul mio instagram e quindi questa sera ascolterò anche le vostre domande se ci sono su questo su questo tema intendo cercherò anche di capire come poter affrontare il tema nel modo più semplice perché difficilissimo questo questo tema da raccontare in un momento diciamo di così grande confusione le domande le andrò a leggere ogni tanto qui qui sotto nello spazio riservato alle domande ciao mars inizio da quando ho incontrato berri casparoff il grande scacchista uno dei più grandi scacchisti della storia io ho la passione per gli scacchi quindi ho incontrato questo mito assoluto gli chiedo gli chiedo sì ma la mafia russa che ruolo ha era il 2016 lui velocemente liquidò dicendo al di là delle brattva si tutte rispondono sempre al loro capo chi putin ovviamente mi dispose stupito per chi studia le mafie vedere coincidere lo stato con la criminalità organizzata stride la criminalità organizzata sempre bisogno di spazi propri appoggia un governo per poi potersene disfare appoggia un ministro un presidente per poi al momento necessario poterlo sostituire se coincide cioè se sostanzialmente la mafia governa direttamente non è più un'organizzazione criminale che in quanto tale è autonoma non è un caso che la più antica di tutte si chiami cosa nostra gestisce gli affari propri un po di sé gli affari degli altri dagli affari degli altri ne ottiene profitto ma in questo caso cosa è che lega la mafia russa a quello che sta succedendo in questa guerra allora innanzitutto passo indietro prima della rivoluzione arancione piazza maidan prima di quella insurrezione i rapporti che univano il gas russo gestito dai russi alla all'ucraina erano mediati dalla mafia russa racconto esiste esisteva esiste ancora ma esisteva un'azienda che si chiama rosucr energo sede in svizzera 50 per cento delle azioni di proprietà di gazprom che vendeva il gas quindi la rosucr energo ricordatevi questa azienda vendeva il gas società fondata nel 2004 dall'allora presidente ucraino kukma e da vladimir putin portava il gas del turkbenistan ad un'azienda ucraina nome naftogaz che è la società nazionale del petrolio e del gas ucraino questa società nazionale ucraina doveva comprare dalla rosucr energo tutto il gas non solo il gas della rosucr energo passava per l'ucraina ora questa società dava il gas all'ucraina e l'ucraina lo comprava a un prezzo più alto di mercato perché gli veniva imposto non solo mai territori filorussi creme e donbass praticamente il gas andava gratuitamente l'uomo che permette questa mediazione tra gazprom qui mi dice che non si sente niente mi dite se si sente ero già partito registrano la live ma ditemi se si sente scusate perché se no vado a vuoto si sente grazie vi chiedo un attimo di attenzione perché questi sono passaggi fondamentali che non stanno raccontando ma non perché ci sia una censura semplicemente perché c'è un'altra priorità i morti i bombardamenti allora ritorniamo ritorniamo grazie romano la società che vendeva il gas russo all'ucraina rosuc energo che teneva per le palle il governo ucraino filo russo si basava su tre pilastri l'appoggio di vladimir putin il mediatore tra gazprom e l'ucraina dimitri firtas l'uomo di gazprom era direttamente l'interlocutore di yanukovic il presidente ucraino filo russo che la rivoluzione di piazza maidan andatevi a vedere un bellissimo documentario su questo su netflix ha cacciato via cosa succede l'ucraina trattata letteralmente come una colonia da saccheggiare da parte delle organizzazioni criminali russe che però sono gemelle di quelle ucraine il capo mogilevich uno dei capi perché una diarchia della del brigata del sole quindi della sosnevskaya il capo della sosnevskaya mogilevich è di kiev è un ucraino che comanda insieme ad un'altra figura un'organizzazione russa l'altra figura è serghei michael kov famoso come mikas firtas è l'uomo che sta mediando ed è l'uomo che ci svela indirettamente che il gas russo venduto all'ucraina era mediato dalla mafia perché firtas incontrerà nel 2008 william taylor che era l'ambasciatore americano in ucraina sapendo che gli americani stavano indagando su di lui confessa e noi lo sappiamo grazie a vicky lex che svela i cablogrammi confessa che mogilevich era il vero uomo dietro il gas russo venduto agli ucraini che poi in realtà era gas turcmeno e dichiara e dichiara al taylor che nulla in ucraina era possibile fare all'epoca senza l'appoggio della criminalità organizzata quindi si giustifica dicendo il nostro rapporto con la criminalità organizzata è un rapporto necessario perché a cui si funzionano le cose lo sta facendo per scaricare la sua responsabilità ma taylor fa un cablogramma al governo il cablogramma verrà svelato da vicky lex e firtas che in questo momento in austria scappato perché gli stati uniti lo vogliono arrestare per una truffa di 500 milioni di dollari milioni di dollari firtas dichiarerà che non ha mai detto queste cose a paura di mogilevich le organizzazioni mafiose russe da sempre controllano la crimea da sempre controllano il dobbas quando si parla di persone l'avrete sentito senza insegne militari che si aggirano armate in questi territori sono affiliati i più grandi studiosi di mafia russa penso a marche galeotti per esempio raccontano di stati che adesso sono chiesto l'indipendenza mafiosi cioè gestiti direttamente la criminalità organizzata la crimea veniva definita tra l'altro con un piglio un po razzista dai cronisti russi la sicilia russa la sicilia ucraina con sicilia intendevano dire governata dalle organizzazioni criminali cito il procuratore capo della regione crimea victor shemchuk ogni livello del governo di crimea è mafiosizzato non era insolito che una sessione parlamentare del parlamento della crimea iniziasse con un minuto di silenzio in onore di affiliati uccisi quindi si parla parlamento della crimea che obbediva dedicava un minuto di silenzio più volte quando si uccidevano affiliati delle bratwa la giornalista russa yulia poluchina o poluchina fa una sintesi chiarissima e dice i beneficiari di questa guerra sono i politici gli oligarchi e i gangster carbone oro benzina tabacco questo è ciò per cui si battono per l'ucraina orientale cioè si vuole quella zona mascherando mascherando certamente per motivi politico geopolitici ma si vuole soprattutto perché quella è una zona ricchissima gestita dalla criminalità organizzata che sostiene da sempre putine il 17 aprile del 2015 radio sboboda intervista un volontario russo lo riporta mark galeotti un volontario russo che aveva creduto alla propaganda di putin all'illusione di andare a combattere contro i fascisti ucraini e dice quando arrivi lì ti rendi subito conto che non si tratta di unità militari ma di vere e proprie bande criminali l'ex capo della polizia ucraino ovchinski commenta ora si sta verificando una sorta di nazionalizzazione delle mafie nazionalizzazione delle mafie quindi cosa succede? che le organizzazioni criminali le organizzazioni criminali hanno un ruolo attivissimo in questa guerra perché i territori che si sono annessi i russi sono territori in mano ai clan che certamente hanno fatto pressione su putin e meglio ancora putin è sempre stato sostenuto e sostiene la mafia che in russia ha un ruolo fondamentale e di dipendenza dal potere politico mi spiego la maggior parte degli affari della mafia russa si fonda su concessioni di risorse naturali che lo stato ha dato alle organizzazioni criminali la mafia russa è complicatissima ci sono i livelli molto bassi che gestiscono le estorsioni furti di auto per esempio furti di auto in mezzo mondo e poi ci sono quelli che gestiscono il legname per esempio la Solznevskaya gestisce secondo dati ONU per 620 milioni di dollari 620 milioni di dollari il profitto dal legname russo tagliato illegalmente e venduto alla Cina per le costruzioni come sapete nell'edilizia il legname è fondamentale un miliardo di dollari un miliardo di dollari è il guadagno della Solznevskaya esportando eroina al mercato cinese questi sono piccoli numeri rispetto all'immensità del volume di capitali della Bratva della Brigata del Sole poi utilizzano questi nomi si chiama in realtà Solznevskaya Bratva perché il quartiere dove è stato fondato si chiamava appunto così è una delle letture quindi deve essere chiaro il gas veniva venduto all'Ucraina da mediatori mafiosi questi mediatori mafiosi sostenevano il governo ucraino di Yanukovic quando c'è la rivolta di Maidan 2014 il banco salta interrompono i rapporti l'Ucraina quindi si libera dal legame mafioso un politologo britannico Taras Kuzio che è sui fatti ucraini per me il più affidabile in assoluto il più affidabile in assoluto molto più di osservatori anglosassoni per esempio a eccezione di Luke Harding che amo molto lui è un britannico intendevo dire i giornali anglosassoni Taras Kuzio dice va detto che l'Ucraina prima della rivolta di Maidan prima della rivolta di Maidan del 2014 era uno stato mafioso neo sovietico stato mafioso non se ne parla mai ma l'infiltrazione che i russi fanno il governo russo fa in Ucraina per anni è un'infiltrazione mafiosa e le organizzazioni ucraine sono criminali sottoposte a questo cioè sono alleate della politica estera russa Firtash l'uomo di cui abbiamo parlato prima cioè il mediatore tra Gazprom la grande il colosso l'impero del gas e Yanukovic il presidente ucraino filorusso Firtash ha come avvocato Rudolf Giuliani ed è legato a Manafort l'uomo che ha gestito la campagna elettorale di Trump questo serve per comprendere come l'organizzazione mafiosa stavo dicendo prima dipenda dallo stato quando Dai era un paese comunista anzi il frutto di questo inferno sono stati gli anni della dittatura comunista che hanno distrutto la società civile che hanno sventrato rendendolo verticale corrottissimo il sistema d'organizzazione statale le dittature sclerotizzano il sistema quindi quando è arrivato Putin prima le concessioni sono state date a una serie infinita di persone che hanno iniziato a guadagnare dall'acciaio dal titanio dal carbone dal petrolio le organizzazioni quindi quelli che noi chiamiamo oligarchi sono individui che hanno ricevuto non per abilità personale ma per concessione strategica la gestione delle risorse la mafia la 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 mafia di alto livello cosa fa gestisce il legale e l'illegale e una parte di questo profitto lo ridà lo ridà agli uomini che hanno permesso questo profitto quindi io ti concedo di gestire il carbone una percentuale dei tuoi guadagni vanno a me personalmente non solo io ti concedo di gestire il carbone e la tua gestione di investimenti legali e la tua gestione degli operai e la tua gestione di influenza sarà a favore del mio governo la protezione quindi di putin è anche una protezione criminale cioè le organizzazioni sanno che nel momento in cui appoggiano un dissidente o smettono di avere una linea filogovernativa verranno colpiti e c'è un esempio che riporto nell'articolo di oggi che potete vedere sul Corriere della Sera che è l'esempio di Zakarchenko il colonnello Zakarchenko 2016 capo della divisione anticorruzione russa a un certo punto viene indagato una persona mi dice quindi oligarchi uguali mafia semplificando molto non per forza non per forza spesso l'espressione oligarcha è un'espressione volutamente generica per definire qualcuno che ha ottenuto una grande quantità di denaro per concessione non è che tu quindi hai conquistato hai vinto hai conquistato un'impresa che è riuscita a comprare ha vinto sul mercato ti è stato concesso quindi l'oligarcha non era un libero un libero mercato 20 30 40 persone che hanno preso tutto dicevo di zarcenko 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 viene nel 2016 trovato dalla polizia russa con 123 milioni di dollari in casa 123 milioni di dollari in casa pensate che a un certo punto non possono più contare soldi prendere soldi perché non c'erano borse sufficienti per prendere questi soldi questi soldi erano un fondo comune non suoi dell'hobby che sono i cosiddetti lupi mannari i lupi mannari sono un clan mafioso dentro la polizia russa bene perché putin lo arresta perché probabilmente stavano iniziando a muoversi contro di lui quando putin capisce che ci sono delle figure che possono metterlo in difficoltà per esempio indagate da magistrature internazionali che per rivalsa personale fanno uscire informazioni perché magari non hanno fatto scatti di carriera non hanno avuto soldi quando qualche mafioso o qualche poliziotto o qualche politico si comporta contro la linea data da Putin li arresta o li ammazzano la magistratura russa è incredibile cioè la maggior parte dei processi va a condanna ma credo oltre il 90% significa che tu non vai non vieni rinviato a giudizio e puoi difenderti tu vieni rinviato a giudizio per essere condannato e ciclicamente gli oligarchi che vengono arrestati o i poliziotti che vengono arrestati finiscono in carcere perché hanno o tradito una linea governativa o rischiano di o avevano fatto del male ad una persona o concorrenza a una persona vicina a Putin chi invece fa crimine basso stupro spaccio di strada ciclicamente viene arrestato e in carcere esiste per esempio Semenero è un'organizzazione mafiosa che gestisce solo i carceri solo le carceri in Russia Mark Galeotti dice che il fondatore della mafia russa è Stalin lo dice direttamente perché con un pensiero che non è provocatorio è l'uomo che affida la gestione dei gulag al crimine organizzato anzi a un crimine comune che si fa organizzato nei gulag ma questa è una lunga altra storia voglio un attimo dare occhio alle domande crede che la Solzhenitska Yabratva voglia approfittare della guerra per riappioparsi del controllo territoriale ucraino sì Filippo esattamente così esattamente così ci sono connessioni tra mafia russa italiana moltissime il ruolo di Abramovich non certamente è un ruolo interessante ma non ne so abbastanza per poter dare una risposta su questo cosa pensa la mafia delle sanzioni è un tema complicatissimo la mafia delle sanzioni ha un enorme vantaggio perché può gestire il contrabbando ma allo stesso tempo ne ha uno svantaggio perché molta parte degli affari legali sono suoi sono delle organizzazioni criminali stesse cosa pensi mi chiede Antonio Lucci di Gerhard Schroeder nel consiglio di amministrazione di Gazprom che è stata la grande sconfitta della socialdemocrazia europea e tedesca che un dirigente così importante della sinistra europea passasse fosse letteralmente comprato a un impero in maniera di tutto legale lui può stare lì ma un impero che sostiene che è sostenuto e sostiene un governo antidemocratico che uccide i dissidenti che persegue dagli omosessuali che arriva a una militarizzazione totale del territorio è la fine stessa no della della degli orizzonti della sinistra ma come un tuo dirigente fa questo e non è l'unico in Germania si salva la diretta come pensi che vada a fine di tutto questo magari anche solo ipotizzarlo io per ora procedo sulle strade che conosco avendo studiato la mafia russa per molti anni mi chiedono mi chiede Marta gli Stati Uniti e Biden beh qui è fondamentale perché l'Europa lascia solo solo l'Ucraina dopo Biden dopo la rivolta di piazza Biden Yanukovic va via l'Ucraina però resta sola l'Europa teme di intervenire in Ucraina perché dipende dal gas tedesco ma non solo teme anche interlocutori corrotti perché gli interlocutori in Ucraina sono stati condizionati per anni dalla mafia della Crimea e del Donbass in questo spazio tra l'Europa che non appoggia più che non riesce a sostenere l'Ucraina e la pressione russa interviene la Nato la Nato entra in uno spazio politico lasciato dall'Europa lasciato colpevolmente dall'Europa l'Europa che non arma l'Ucraina l'Europa che non fa entrare l'Ucraina l'Europa che non riesce a trovare degli interlocutori affidabili che considera affidabili per un percorso democratico in Ucraina ecco il risultato le organizzazioni criminali esistono sono affidate anche in Ucraina sì come ho detto all'inizio della diretta le organizzazioni criminali ucraine sono gemelle di quelle russe non si sa se in questo momento stanno staccandosi o tengono ancora alleanze quando dice Europa intende EU sia chiaro sì intendo l'Europa e come continente intendo anche la Svizzera la quale non solo dà sede a gran parte degli affari a gran parte dei soldi del gas russo ma solo adesso ha deciso di congelare dei conti e per tutti questi anni sono contento che Kasparov sia intervenuto su questo perché diventa difficile fermare Putin qui si entra in un altro ambito ancora innanzitutto queste operazioni sono operazioni che vanno a sostenere il suo consenso non è vero che creano dissenso certo molti russi sono contro la guerra ma un'operazione del genere irrora danaro in molte parti del potere russo che quindi è ben felice dà un segnale forte il segnale forte è non cadrò interno dà un altro segnale forte l'Europa è debole è il momento di picchiare quindi posso prendermi un territorio che voglio neutrale per poterlo lasciare infiltrare dai propri soldi dai propri interessi esattamente come con Lukashenka con Lukashenka è avvenuta la stessa cosa ma non con i paesi baltici per esempio perché non è entrato nei paesi baltici perché c'era minore interesse che entrare in Ucraina perché l'Ucraina ha un significato simbolico geopolitico e criminale diverso perché lasciare l'Ucraina significa dimostrare una debolezza interna forte perdere il consenso delle organizzazioni criminali che gestiscono che gli gestiscono molta parte dei suoi stessi affari la Bielorussia è un paese profondamente corrotto e con una mafia potentissima Putin non ha fatto totalmente i conti con la globalizzazione e con il peso che essa ha per la Cina e beh la Cina non può prendere chiaramente distanza da un così forte alleato tanti stati stanno accettando gli Ucraini in fuga per fortuna in questo momento sì sì e questo mi mi permette di aprire una riflessione sulla destra italiana che ha sempre appoggiato Putin pensate che cosa incredibile e solo adesso ne prende distanza ma tutta la politica Putiniana è sempre stata identica a quella di oggi cioè Putin non è né un matto al di là del fatto che può essere uno psicopatico come moltissimi leader politici sono c'è un testo bellissimo su questo e poi magari vi segnalo gli uomini di potere hanno tendenze sociopatiche ma qui entriamo appunto nella psicanalisi negli studi storici non mi importa questo non è importante quello che è importante ricordare che il comportamento di Putin di oggi è coerente con le sue azioni di vent'anni di potere più quindi quando Salvini indossava la maglietta quando tutta la ciurmaglia Gasparri Meloni sostenevano Putin Casa Pound e via dicendo tutta la destra flirtava con Putin lo faceva consapevole non serviva l'invasione lo faceva consapevole di stare elogiando un presidente autoritario che gestiva con le organizzazioni criminali il proprio potere che saccheggiava risorse dandole a uomini di fiducia come amministratori certamente in un paese che gli dava un consenso in molti casi sincero veniva dalla dittatura comunista vedeva ricchezza vedeva capacità organizzativa soprattutto nelle grandi città questo non nelle province e questo generava un consenso anche non manipolato anche diretto per chi esce dalla dittatura quindi la destra quando ha sostenuto per anni si è fatta finanziare l'accordo lega russia terribile è uscito in questi giorni passare informazioni ricevere danaro ha significato avere in casa una destra illiberale come la nostra destra vicina alla russia che poi guardate come la semantica manipola tutto che chiama poi i nazisti gli ucraini loro che hanno creato letteralmente il ceppo ideologico della nuova destra del nazionalismo del populismo poi chiamano nazisti gli ucraini perché perché nel frasario russo in qualche modo l'unione sovietica è come se fosse stata una declinazione dell'impero zarista della grande guerra patriottica dello spirito russo quindi loro si appropiano della storia russa per esempio anche quella della sconfitta con un tributo di sangue altissimo dei sovietici dei nazisti ad opera dei sovietici si appropriano di quella storia e chiamano qualsiasi nemico nazista ma come poi tra l'altro come potrebbe essere un presidente ebreo come il presidente ucraino nazista gli Stati Uniti perché sono considerati migliori di Putin innanzitutto sono la democrazia e poi qui non si sta raccontando di migliori non è che bisogna parteggiare e schierarsi come dire in un gioco sempre di tifoserie la prima cosa che per esempio ci tengo a dire è che la Nato in questa situazione approfitta del voto europeo la mossa di far entrare l'Ucraina in Europa è terribilmente in ritardo ma è assolutamente necessaria milioni di morti i russi hanno avuto per combattere la Wehrmacht e l'invasione dell'operazione barbarossa sì gli Stati Uniti sono una democrazia una democrazia piena di contraddizioni ma sono una democrazia non è la democrazia a cui diciamo ammisco il sogno rimane quello di Spinelli Ernesto Rossi e dei fondatori dell'Europa creare una democrazia che tra i due mondi tra quello americano e quello sovietico i padri del sogno europeo volevano creare un'alternativa alla società della competizione alla società militarizzata sovietica l'alternativa europea era in assoluto la migliore strada non sta accadendo la Nato ha le sue colpe ma sono con cause non rilevanti ma la Nato più che avere colpe la Nato porta avanti il suo piano che è quello di permettere in sicurezza come dire le democrazie e gli affari vicini agli Stati Uniti no non provocano gli americani in realtà i russi non hanno fatto null'altro che cercare di infiltrare con propri uomini con propri capitali mezza Europa e quindi più che provocare appunto è mettere in sicurezza ognuno segue i suoi piani chiaramente la strategia di Putin è una strategia militare è una strategia di invasione è una strategia di regime quindi in un contesto del genere non è pensabile paragonare le due cose l'Europa sì ha delle responsabilità enormi quella di aver in qualche modo lasciato l'Ucraina solo come un territorio nello scacchiere Nato e non aver fatto un percorso di anni per proteggere e far crescere una democrazia sembrerebbe di sì che è vero che stiano arrivando mercenari sembrerebbe di sì dell'agenzia Wagner è una delle agenzie più potenti non nazi in Ucraina non ho detto questo non ho detto questo e conosco benissimo la storia di Andrea Rocchelli esistono e come esiste una destra articolata in Ucraina che discende anch'essa da una storia dalla storia drammatica dell'Ucraina e cioè dopo l'olocausto che i sovietici i comunisti generano in Ucraina con 6 milioni di morti per fame oltre 6 milioni di morti per fame un pezzo del popolo ucraino quando arrivarono i carri armati della Wehrmacht si alleò ci sono appunto le fotografie dei cosacchi con i tartari con il colbacco con la croce uncinata perché qualsiasi alleato potesse servire a sconfiggere Stalin non l'avrebbero appoggiato da questa tradizione comunque minoritaria perché l'Ucraina ha combattuto in prima linea contro i soldati tedeschi dicevo da questa tradizione è venuto fuori tutto il percorso della destra ucraina nel 2014 i russi nel 2014 i russi hanno colpito un aereo uccidendo 298 persone esatto assolutamente tantissime domande delle più svariate riprendo un attimo quelle che mi avete scritto secondo lei Berlusconi potrebbe fare da mediatore no Berlusconi è parte in causa di questa deriva della destra italiana ha la responsabilità principale dell'alleanza con Putin che è stato per anni un leader da con cui mediare da secondare addirittura da indirizzare secondo alcuni ed è questo è stato l'errore madornale madornale di cui tra l'altro l'Italia è una responsabilità enorme perché la destra italiana è stata la più vicina al regime russo così facendo non rischia di mettere l'esercito contro le organizzazioni criminali ma le organizzazioni criminali in questo momento russe stanno sostenendo in Donbass e Crimea l'esercito russo l'hanno sempre fatto Paola mi scrive oggi una donna ucraina appena arrivata mi ha detto che la loro paura è che Putin non si accontenterà dell'Ucraina e queste sono diciamo analisi molto difficili da fare per ora la misura è tutta geopolitica e simbolica da un lato e dall'altra effettiva Zelensky ebreo come può essere vicino ambienti esterno a destra la Merkel non è più presidente in Germania esatto ahimè il rapporto Salvini Putin è un rapporto strettissimo che non riguarda solo Savoini ricordate è un rapporto che riguarda chiaramente finanziamenti economici ideologici sostegno ideologico l'idea di poter in qualche modo prendere in mano con risorse con strategie la destra e portarla su linee appunto anti-europee con sempre ambiguità sul patto atlantico che Salvini dichiarava di sostenere che dichiarava di sostenere ma come con l'euro da un lato diceva di volerlo sostenere dall'altro faceva di tutto per sabotarlo questo porta Salvini ad avere anche una visione ideologica simile a quella di Putin pieni poteri una gestione a pugno di ferro affidare agli uomini vicini le risorse del paese puntare tutto su una continua campagna di propaganda legata all'immigrazione alla paura dell'altro Salvini Berlusconi Meloni Gasparri sono tutte figure che si sono esposte in tutti i modi a favore di Putin adesso stanno cercando di recuperare ma la domanda è come come facevano le persone che sostenevano queste figure ad accettare che loro usassero come modello un regime che uccide i dissidenti che li avvelena le condizioni attuali dei cittadini russi potrebbero permettere una rivolta popolare è molto difficile perché la situazione in Russia è una situazione da regime quindi vieni arrestato anche solo come è successo se vai a mettere i fiori davanti l'ambasciata ucraina sparisci se se decidi di aprire un blog e parli di organizzazioni criminali uno dei capi della Solzevskaya Bratva se andate a vedere su online anche su wikipedia è descritto come il famoso Mikas è descritto come imprenditore hanno oscurato qualsiasi pagina in Russia parlasse del suo rapporto con l'organizzazione criminale di cui tra l'altro è ai vertici quindi oggi è difficilissimo muoversi e lo sa bene Navalny e poi c'è le fake news continuerete a leggere una valanga di manipolazioni come l'avete visto il video di quel non era un tanker un blindato probabilmente antiaereo ma che schiaccia un'auto appena io scrivo un blindato russo schiaccia un'auto tutti non è russo è ucraino certo quella è stata una sintesi perché quel mezzo blindato era stato sequestrato al mattino da soldati russi e infatti l'esercito ucraino poi ha mostrato le foto di quei soldati che avevano rubato quel tank che era poi quel blindato li avevano ammazzati e indossavano addirittura le divise ucraine perché parte della strategia russa era stato quello di infiltrare quelle che vengono chiamate le seconde linee o le retro linee cioè mandi uomini a prendere mezzi che tra l'altro dimostra quanto l'esercito sia ucraino si è impreparato il blindato ha perso il controllo probabilmente non l'ha fatto di proposito questo è da vedere sembrerebbe che non l'abbia fatto di proposito ma tutta la campagna che è partita di propaganda no è stato fatto dagli ucraini è pericolosissimo perché compriamo il gas da una nazione come la Russia perché è più economico rispetto ad altri e soprattutto perché non abbiamo deciso di costruire gasdotti in grado di farci approvvigionare da altre da altre nazioni no non somiglio affatto a questa persona di pomidici ecco questa è una domanda che gira continuamente Putin non è l'unico cattivo in questa storia se gli USA non avessero adottato le politiche degli ultimani il presidente russo non avrebbe avuto nemmeno il pretesto per l'invasione non è così non è così gli Stati Uniti hanno approfittato certamente ma ma non è vero che è stata una provocazione americana è stato il pretesto per Putin intervenire contro una nazione che stava sempre di più allontanandosi dalla sua egemonia e avvicinandosi all'Europa beh il nucleare al posto del gas si apre un dibattito gigantesco non riusciamo ad affrontarlo ora non saprei neanche sostenerlo ma è una possibilità di cui si sta discutendo l'Ucraina non fa parte della Nato non potremmo dichiarci neutrali la storia della neutralità è interessante si è fatto riferimento più volte a come la Finlandia fu neutrale nell'epoca della guerra fredda ma la Finlandia che pure i sovietici avevano tentato di prendere durante la fase di neutralità diciamo non fu infiltrata in maniera massiccia né dal crimine sovietico russo né dagli interessi sovietici l'Ucraina parlare di neutralità ucraina è irreale perché negli anni in cui l'Ucraina non ha avuto Yanukovic cioè un fantoccio di Mosca i tentativi di destabilizzare e i tentativi delle organizzazioni criminali di governarne l'economia sono stati infiniti quindi dire si neutrale significava dire si è a disposizione mia credo che l'Ucraina adesso utilizzerà un percorso diciamo speciale per entrare in Europa quindi non farà le tappe che vengono chieste solitamente essendo una situazione di emergenza ci saranno procedure immediate un golpe dei colonnelli contro Putin lo vedo impossibile per ora ma ci sono diversi libri su questo argomento ma sono tutti in inglese Mark Galeotti è un autore che mi ha sempre ispirato e che ha permesso di studiare le organizzazioni criminali russe Masha Ghen su Putin ha scritto un libro bellissimo L'uomo senza volto per Bonpiani in realtà Taras Kuzio ha scritto dei libri bellissimi sull'Ucraina ma tutti in inglese perché nessuno parla di mafia russa non parlano di mafia russa perché in questo momento l'attenzione è su alto ed è un grandissimo peccato perché tolgono all'opinione pubblica una conoscenza fondamentale va bene ho parlato tanto 2349 vedo le ultime domande sì nella costituzione russa c'è il diritto alla ribellione fu fatto proprio è dopo l'eredità sovietica ma come vedete non è un diritto dato certo alla fine di questa guerra le mafie vinceranno sempre come accade in qualsiasi conflitto buonanotte 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 Nicola va bene ti prego spiegaci se potrebbero essere una risorsa o meno secondo te non so cosa fa riferimento esiste un futuro senza russia alleata è difficile immaginarsi un futuro senza russia va bene buonanotte roberta Putin sarà processato sì o no difficilissimo che sia processato è un capo di un regime o viene abbattuto o raramente viene processato Saddam è stato processato ma quella è un'altra storia va bene ecco Katia cita un detto Camaron Tacubagna mi dice grazie buonanotte a tutti salvo la diretta e ci teniamo in contatto per gli aggiornamenti su quello che sta quello che sta succedendo ciao Andrea e se potete tenete occhio su questo sul ruolo della criminalità organizzata in Ucraina la criminalità organizzata russa e i suoi alleati perché e così ho chiuso l'articolo di oggi sul Corriere guarda la mafia vedrai crimine affari narcotraffico guarda attraverso la mafia vedrà il destino dell'economia e questo è fondamentale comprenderlo perché altrimenti non comprendiamo il ruolo così importante della Crimea che aveva appoggiato il governo precedente filo russo a presto e salvo la diretta ciao a tutti